Il pratico e piccolo spremi agrumi è perfetto per spremere qualsiasi tipo di agrume. Il succo cola direttamente nel recipiente graduato da mezzo litro attraverso le ampie fessure verticali che indicano l'esatto quantitativo di succo. La forma quadrata permette una solida presa durante la spremitura e il versamento. Lo spremi agrumi è facile da pulire e può essere messo in lavastoviglie. Il recipiente graduato fornito con lo spremi agrumi è di formato compatto e misura 13x13 cm in ampiezza e profondità e 13,5 cm in altezza. Oh sì, giusto! Riceverete anche da Brabanzia una garanzia di 5 anni! Grazie a tutti!